Partizione di questi eventi, attenzione, il numero 111, Safira, la ragazzina in seconda posizione, questa è la giornata, la giornata, la giornata personalizzata in seconda posizione e dietro chiaramente anche la categoria G1-G2 ma non mollano, il primo trago, incredibile questa scelta, la giornata personalizzata, la giornata personalizzata o la giornata personalizzata, la giornata naturalizzata Tanto l'HTBG, FG4, Alipi, Zalboni, Benetti, PC